Amici e amiche di Alcambolesco, come sempre ben ritrovati ragazzi, rieccoci con Dirt Rally, riprendiamo dove ci avevamo lasciati la volta scorsa, avevamo chiesto l'evento di Germania, cominciamo quest'oggi dall'evento del Galles, vediamo vediamo vediamo, sono curioso di vedere com'è, siamo di qui come sempre con questi caricamenti un po' lunghi, eccoci qua, sembra figo, sembra faico ficco, come sempre il nostro Albi Vesta, Mini Cooper S, campionato anni sessanta, ci siamo eh, Concentration please, as always Concentration, al massimo, eccoci qua, pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! Via! Stanta, su crinale, attenzione, tieni la sinistra su crinale, discesa, poi destra 4 lunga, poi sinistra l'1 lunga. Attenzione, eh, attenzione, eccoci qui, bene, bene, bene così, in sinistra 6 su Cunette, in destra 4 continua su crinale, in sinistra 6 60 dopo il piano. Attenzione, attenzione, oppalala, oppalala, ricominciamo che sembra un po' stronzo. 5, 4, 3, 2, 1, via! Oppa! Stanta, su crinale, attenzione, tieni la sinistra su crinale, discesa, poi destra 4 lunga, poi sinistra l'1 lunga. Partente è un po' da schifo, ma vabbè. Ci siamo, una frenatina qui, va bene, e invece un'altra bella frenatona qua così. In destra 6. Il terreno però è scivoloso. In sinistra 6 su Cunette. Quindi a frenare l'8 prima. In destra 4 continua su crinale. Sì, abitati a rally di Germania, dove? In sinistra 6 60 dopo il bivio. Qui vedete che fatica che faccio frenare, perché la macchina slitta. Curva sinistra 1,40. Vabbè, qui. Curva destra 2 non tagliare, curva difficile convessa. Porca miseria. In sinistra 6. Alla faccia. In attenzione, destra 6 subito tornante sinistro. Destra 6 subito tornante sinistro. In sinistra 4 lunga. Ci qua freno a mano. Bella, 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 bella. Poi attenzione, curva gomito a destra non tagliare, tronchi in uscita. Destra 6 non tagliare. Quanto siamo dietro? In sinistra 6 60. Mamma mia. In sinistra 3 lunga non tagliare. Devo darci dentro di più, va bene. In destra 6 60 su crinale. In sinistra 6. Attenzione, destra 5 poi sinistra 3 secca su crinale. Crinale. Destra 6 crinale 130. Ui. Destra 6 poi cautela sinistra 6 al centro su salto. Stiamo volando. In destra 4 lunga. In attenzione, sinistra 6 lunga. In destra 4. Su crinale salto. Destra 5 e destra 5 lunga verso sinistra 6 lunga su crinale. Mi piacerebbe volare di più ma ragazzi potete vedere. In destra 6 semi lunga. Siamo già indietro. Mannaggia la puttana. Attraverso cancello crinale e sinistra 5 lunga. Non me la sento di correre. In destra 4 40 cancello. Destra 6 40. Sinistra 6. In destra 3 lunga 40. Destra 5 continua con 80 su crinale e si restringe e diventa 3. In sinistra 5 su crinale continua e si restringe e diventa 4. Mannaggia la puttana mia. Tieni la destra possibile salto. Sinistra 6, destra 6. Tieni la sinistra sul possibile salto. Destra 5 lunga verso attenzione. Sinistra 6 grande salto. Destra 4. Sinistra 6 40 cunetta. Destra 3 lunga dopo il bivio. Verso sinistra 6 crinale salto. Destra 5 lunga 60. Sinistra 4 lunga all'interno. In attenzione tieni la destra sul salto sinistra 6. Che commentari un po'. Che fa cagare ma... Ma a me ne sono ultra concentrato. E destra 2 lunga poi sinistra 3 lunga in destra 6 lunga. Piano piano piano. Benissimo vai. In destra 3 sinistra 6. Destra 4 crinale. Sinistra 4 lunga all'interno centro. Sinistra 4 lunga poi destra l'uno lunga 60. Ok dai che ci siamo. Ci siamo quasi alla fine. Piano 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 piano. Che rischio... No. Banderina. Torna in destra con freno a mano. In sinistra 2 si restringe diventa 1 su crinale 60. Destra 4 lunga. Lo posso un po' di più. Va beh. Il tempo è un po' di merda questo eh. È un tempo di merda proprio. Ai ai ai. È tosta ragazzi. È tosta. È tosta. È quarti. Addirittura quarti. Mamma mia quarti. È il polacco stronzone là. Sempre primo. Ma bisogna fare i miracoli per arrivare... a quei livelli. Vabbè. Vabbè 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 vabbè. Proseguiamo. Secondo evento di giornata. 3.55 ci abbiamo messo. Mamma mia. È tosto. È tosto. È tosto. È tosto. Ok. Poi ci ricorda l'aiuto sotto che... di verificare spesso gli ingegneri. Dopo andremo a farlo magari. Questa è una pratica che avremmo dovuto fare... prima dell'evento. Va bene. Lo spioniamo con la mano. Pronti. 3. 2. 1. Via. Destra 4 lunga 60 su cunette. Sinistra 6 e destra 5 lunga su crinali. Continua dopo il video. In cautela sinistra 6 dopo il video. Sinistra 3 attraverso cancello bozza d'acqua. Corca la racca. Vabbè. Sinistra 4. Tra 60 la James Bond. In sinistra 6 su salto. In attenzione sinistra 3 continua su salto. Oppa. Destra 1 lunga si restringe a non tagliare. In curva stretta sinistra indicatore sull'interno 60. Attenzione al centro sul salto. Forza d'acqua sinistra 4 attraverso cancello. Mamma mia. Invece si è demotivato il nostro navigatore. Quando si vince bello fiero oggi. Crinale 150 dopo il video. E' veramente una mezza sega. Sinistra 6 su cunetta. 100 dopo piazzola. Crinale sinistra 4. In destra 6 al centro su crinale. In destra 6 130. Siamo disperati. Ragazzi quindi così. Caudella crinale poi curva 30 a tetto. Non posso correre. In sinistra 6 continua per 130. Su conette posso sull'interno. C'è addormentata. Che cazzo fai dai. Sinistra 5 all'interno poi destra 3 su crinale. Non è possibile fare certe robe. Attenzione. Crinale destra 6 poi curva sinistra 3. si ristringe di 22 dopo il pivio. La frena salita. Adesso tutta inderappata. In destra 6 60. Mamma mia sta macchina ancora di cambiare. Crinale possibile salto dopo il pivio. 170. Caudella destra 6 su salto 60. Ma si sente che fa partire l'anno su. In cautela sinistra 6 crinale cunetta. Destra 2 lunga fosso sull'interno. Crinale destra 6 sinistra 6. Destra 6 su crinale 110 su affossamento. Cos'è che c'è destra 6 sinistra 6 destra 6 crinale su affossamento. Attenzione destra 4 lunga non tagliare. Si restringe diventa 3 su crinale subito tornante sinistro. E destra 4 lunga. Scusate scusate con permesso. Con permesso. In sinistra 5 lunga fosso sull'interno. Rally tosto questa ragazzi eh. In attenzione curva a destra 3 secca subito curva a gomito a sinistra. In destra 6 dopo il bivio. Scusate dov'era la curva a gomito? In destra 4 su crinale stretto all'interno. Sinistra 5. Mi dice che dove va a gomito? In destra 5 stai dall'interno sinistra 2. E destra 6 in sinistra 6. In destra 3 lunga poi curva a sinistra 3 semilunga crinale possibile salvo. Deconcentration totale. In destra 4. Mi spiace deconcentration totale per questo evento. Curva a destra 6. Dobbiamo andare a limitare gli errori. Cautella sinistra 6 crinale 80 discesa curva gomito a destra. Destra 6. In sinistra 4 semilunga all'interno. Ma la ammone va. Niente ragazzi per questo evento. Mi sa che perderemo un sacco di punti a posizione in classifica. In sinistra 2 all'interno. Neanche il podio vedo. Neanche il podio però ragazzi è efficissimo. Non vogliamo andare tutto a puttane negli ultimi eventi. Destra 1 non tagliare. In sinistra 6. In sinistra 2 lunga si allarga certo. Dobbiamo guidare come rocco e capace. Come anubi despe e capace. Destra 3 su crinale 60. Tieni la sinistra su crinale. Destra 4 non tagliare 60. Va bene. Sinistra 6 su crinale. Qua in cautela destra 4 lunga non tagliare tronchi sull'interno. Eh ma abbiamo un ritardo enorme. Un ritardo enorme che ci fa quel perlado ma 45 secondi di ritardo. E una macchina nera. Eh ancora a quarti. Niente da fare. Niente da fare. Eh ci qualificheremo miss a quarti alla fine di questo evento. Un po' barbino. Un po' stronzo. Un evento un po' così. Va bene ragazzi. Dai. Ci salutiamo qui per oggi. Cosa ne pensate? Così ve lo penso di... Spero di riuscire a portarvi l'episodio il più in fretta possibile. In giornata non penso ma sicuramente domani lo vedrete. Perché oggi alle 18 esce un altro video ma che avrete già visto. Questo perché sto registrando oggi. Voi lo vedete domani. Questo quindi il video che dovrebbe uscire oggi invece voi l'avete visto ieri. Va bene. Perfetto. Come sempre ragionamenti ero camboleggianti. Io vi ricordo la mia pagina Facebook. Roccambolesco YouTube. Mettete il mi piace lì. Così riuscite sempre a rimanere in contatto con il mio canale. Con me. Con le ultime novità che riguardanti per l'appunto il mio canale YouTube. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. E condividete. Come sempre ragazzi. Noi ci vediamo nei prossimi video. Nei prossimi episodi. Nelle prossime avventure. Mentre guardavo qui. Che trambata avevamo tirato quella stagionata. Io vi saluto come sempre cordialmente. Alla prossima. Buona giornata. Un cuore dalle saluto da Roccambolesco.